Il passeggero diceva lui ok, il soleo può aver salito per questo lato perché vogliamo il pilota della ragazza dentro il novio, il fidanzato è fuori esce fuori esce fuori perfetto gira, esce fuori il carro finisce e possiamo averlo qui si 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 lui sta dicendo che la vuole io non gli posso garantire però che mi rimane sul tetto ok una volta che è partita però noi la giriamo sul tetto e la facciamo fare